Maika, ci fai un bilancio di questi tuoi primi mesi in giallo-rosso? Prima di fare il team è molto bello. E in questo modo, quando mi sono stati in giallo e in giallo, sono stati fatti un po' più fatti, e quando si riferisce in giallo, vorrei crescere molto in giallo e in giallo e in giallo. quindi sono contenta, puoi continuare qui, puoi continuare così. Ti trovi bene con la difesa a tre? Sanmai da dove si trova? L'interno di Sanmai è più facile, più facile e più build-up, quindi in questo modo si tratta di attenzione. Sanmai da dove si trova il rischio di rischio di rischio di rischio, quindi inizialmente inizialmente inizialmente. Io sto parlando tanto di questa cosa perché come difesa a tre sono molto più abitato a girare la palla, a costruire dal basso, quindi stiamo facendo bene e voglio continuare così. Una partita non facile, però alla fine avete ampiamente meritato la vittoria. Cantando la scelta di una gara, che vuoi? Sì, in questo modo, il gioco è importante, quindi non c'è nessuna scelta, ma non c'è nessuna scelta, quindi oggi si tratta di ottenere. Il nostro obiettivo è chiaro, quindi i tre punti erano fondamentali. Sono arrivati e sono contento con questo. Io Minami ti voglio chiedere, adesso siete consapevoli che potete vincere il campionato, questo giro di bola della stagione? Quali potete vincere in Torigo? Sì, in quanto riguarda il gioco di gioco? Sì, in quanto riguarda il gioco di 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 gioco? Sì, in quanto riguarda il gioco di 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 gioco. L'obiettivo ovviamente è il campionato, senza un brevito, ma adesso ci sono concentrata in una parte dopo partita, quindi cerchiamo di vincere tutte le partite di liberano. Minami, la Roma è diventata una squadra solidissima in difesa in questa stagione. Passa forse da questo reparto la vera crescita della Roma che può ambire finalmente lo scudetto quest'anno? Ma non si chiama la scuola di gioco 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 di gioco? Gioco 3Lは ciò di gioco, quale io penso di essere in generale di gioco 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 di gioco. Grazie a tutti.